Siamo all'offerta di questa settimana, ne abbiamo parlato con il pubblico, i protagonisti e i critici, sentiamo l'opinione di tre amici nostri docenti, amici di cinematografo. Professor Bennato, professoressa Bragaglia, professor Savonardo. Professor Bennato. Allora, diciamo che dopo due settimane di presenza delle sale cinematografiche, di prevalenza delle sale cinematografiche del cinema italiano, questa settimana invece c'è una forte, una consistente presenza del cinema straniero con delle venature, mi sembra di capire, più legate verso l'orientalismo. Quindi questa è sicuramente una cosa che rende piuttosto curiosa l'offerta cinematografica di questa settimana. Per quanto mi riguarda le pellicole che mi hanno colpito, sicuramente c'è Mia, che più che mi ha colpito mi ha inquietato, e qui parla il genitore, prima che ancora, diciamo così, l'esperto di comunicazione, perché questa dimensione dell'amore tossico, questa dimensione dell'adolescenza che viene ingabbiata da un rapporto che diventa sempre più pericoloso, in cui un genitore poi si deve trovare a fare i conti, è qualcosa che mi angoscia molto e soprattutto mi porta a dare specificamente a mia figlia una specifica educazione in questo senso. Io sono un appassionato, un utilizzatore dei social e dei rapporti interpersonali, però sempre in una chiave da XXI secolo, detto in maniera molto banale. Invece per quanto riguarda la mia dimensione più, diciamo così, scientifica, quello che mi colpisce come studioso di scienze sociali, c'è sicuramente la cospirazione del Cairo, fondamentalmente per un motivo, finalmente un bel thriller stile americano, però ambientato in un contesto culturale profondamente diverso come quello dell'Egitto e soprattutto della contrapposizione fra la politica e la dimensione invece più legata alla religione. Questo me lo rende interessantissimo perché si può sicuramente parlare della dimensione sociale, sociologica di questi paesi anche con una leva comunicativa completamente diversa, che non sia quella del documentario ma in questo caso quella del thriller, che cosa che a me, diciamo così, colpisce la mia fantasia perché sono un appassionato di thriller e di gialli. Poi dall'altro punto c'è Air, la storia del grande salto, perché a me piace molto quando il cinema si confronta con i temi legati per esempio all'economia, alle trasformazioni economiche, al marketing. Sicuramente la nascita della Nike legata all'Air Jordan è un passaggio assolutamente strategico e importante sia dal punto di vista della cultura pop che dal punto di vista soprattutto della cultura legata al marketing. e quindi attribuire di senso e di significati quelli che potrebbero essere oggetti semplici della vita quotidiana come potrebbero essere un paio di scarpe di gomma. Ecco, questo è una cosa che mi rende questo film molto affascinante. Poi devo dire la verità, a me piace molto la coppia Ben Affleck e Matt Damon quindi sicuramente c'è anche questa componente che mi rende questo film molto particolare. C'è anche una cosa che mi ha colpito, però devo ancora valutare se nelle mie corde è l'appuntamento perché questa dimensione emotiva che nasce in una situazione di speed date in questi incontri appunto per la ricerca dell'anima gemella ma che poi diventa una riflessione politica su la disgregazione della Jugoslavia è qualcosa che mi piace molto come The Tournament, appunto rivista narrativo e della sceneggiatura. Quindi sicuramente è qualcosa con cui devo fare i conti. E poi seguendo l'antica massima del il cuore ha delle ragioni che la ragione non comprende i tre moschettieri. I tre moschettieri perché io l'avrò visto non so in quante versioni possibili e immaginabili ma ancora non mi sento appagato di questa grande narrazione del feuilleton classico della letteratura francese. Invece non andrò a vedere Mario Bros perché pur essendo un appassionato ai videogiochi a me Super Mario non mi ha mai colpito il cuore. Da Catania andiamo a Bologna professoressa Bragaglia le sue opinioni Sentiamo i nostri tre amici docenti cominciamo con il professor Savonardo poi il professor Bennato e poi la professoressa Bragaglia Andiamo a Catania Bennato Per quanto mi riguarda sono contento che il film Stranizza da Muri sta scalando la classifica perché la settimana scorsa era più in basso invece adesso sta alzando e sono contento soprattutto per il primo posto di John Wick perché mi piace i film d'azione e John Wick è un signor film d'azione Il cinema è il sogno il cinema è cultura il cinema è libertà Buonanotte Il cinema è un film d'azione Il cinema è un film d'azione